Con le chiacchiere, eccoci qua, registrazione partita. Stavo dicendo che questa è la presentazione del corso Option Day, che è il corso introduttivo alle opzioni, che sono un mondo complesso e articolato, quindi l'Option Day è come se fosse la porticina d'ingresso intagliata nell'albero che Alice attraversa quando, diciamo, vuole cominciare a sbirciare dentro la tana del bianconiglio. Le opzioni sono un po' così. Pardon, l'Option Day è un po' così. È proprio l'entrata, l'ingresso, l'ABC del mondo delle opzioni che è veramente una tana del bianconiglio. C'è da approfondire per anni, ok? Come qualunque abilità complessa, dallo suonare uno strumento all'imparare una lingua, al giocare a scacchi, che tra l'altro assomiglia molto al fare training con le opzioni per certi versi, come qualunque abilità complessa, richiede anni e teoricamente non c'è mai fine a quanto la puoi approfondire, a quanto la puoi raffinare. Le opzioni sono così. Io non finisco mai di imparare, sto ancora studiando, ancora imparando, ancora cercando soluzioni nuove. Però ecco, dopo anni abbiamo un po' trovato una formula vincente, funzionante, sul corso introduttivo alle opzioni. Ed è l'Option Day, perché abbiamo visto nelle ultime infornate di studenti che hanno frequentato negli anni scorsi, nei mesi scorsi, che questa formula funziona, perché infatti poi ci arrivano al corso avanzato con le competenze giuste e con l'approccio corretto e poi al corso avanzato ottengono risultati importanti. Dopo parliamo un attimino anche di risultati, anche se non è il mio focus principale. I risultati sono una cosa importante e i risultati che abbiamo fatto quest'anno sono importanti. Non è il mio focus principale, ok? Perché il mio focus è sulla didattica e sulla tecnica, perché quelle sono la cosa importante, i risultati sono solo una conseguenza di un approccio tecnico fatto bene. Quindi entriamo nella nostra presentazione, cercherò di andare il più rapido possibile perché sono un po' un chiacchierone, se mi conoscete lo sapete, però non vi voglio portare via tutta la sera dell'antivigilia. Questo, se moi, specializzato in opzioni, ETF, earnings, va bene, lo sapete già, credo, o almeno avrete sicuramente visto qualche altro nostro video. Laureate alla Bocconi, cosa che non mi ha insegnato niente sul trading, è tutta roba che ho studiato dopo, perché le università di economia sono straordinarie, ma non insegnano a fare trading e a investire. Sono uno sportivo, sono stato uno sportivo di livello nazionale e internazionale, cosa che vi dico, come ripeto ogni volta, non per farmi bello o perché ve ne doveva interessare qualcosa, ma perché se poi andate a googolare il mio nome, trovate roba sul pattinaggio, sul ghiaccio e non sul trading, perché chiaramente ci sono molti più contenuti su quell'aspetto lì, rispetto che alla mia attività professionale di questi ultimi anni. Sono un imprenditore, ovviamente sia nel mondo del spettacolo, organizzazione eventi, che nel mondo della formazione finanziaria, e faccio formazione per diversi broker, banche, eccetera, eccetera, come credo già sappiate. Cos'è l'Option Day? Entriamo nel vivo. E come funziona soprattutto? Questa è la definizione più stringata possibile dell'Option Day, con evidenziate le parole chiave, le parole importanti. È un corso base di trading con le opzioni prevalentemente sul Forex. Ok? Ho cercato di scriverla già in un modo che spieghi bene tutte le cose, perché le parole chiave sono corso base, trading, opzioni e opzioni sul Forex in particolare. Ok? La parola prevalentemente sottolinea il fatto che la tipologia di opzioni a cui applicheremo i concetti appresi sono quelle sul Forex, ma ovviamente tutto ciò che imparerete sulle opzioni in generale, niente vi impedisce di applicarlo anche ad altre categorie di opzioni, già immediatamente dopo il corso. Come compo... Entriamo nel... Adesso le prossime slide sviscerano le singole parole, le singole parole chiave. Parliamo di come è strutturato il corso, parliamo di trading, parliamo di opzioni e parliamo di opzioni sul Forex. Ok? Quindi a partire dal corso, come è strutturato l'Option Day per ottenere il massimo del risultato? È un percorso, è strutturato come un percorso, cioè parte non dal corso stesso, che poi vi spiegherò è fondamentalmente un weekend, ma parte da un precorso fatto di video registrati appositamente, alcuni video registrati apposta, e alcuni video invece che sono la registrazione di alcuni webinar fatti live per i corsi precedenti. Quindi c'è un mix, c'è una libreria di materiale già abbastanza completa e articolata, di contenuti vecchi, tra virgolette, ma eterni nel loro concetto, e che quindi vi fanno da base, d'accordo? Per cominciare a proprio muovere i primissimi passi e capire i primissimi concetti base. Comunque, detto questo, al corso vero e proprio si riparte quasi da zero, non proprio completamente da zero, perché la partenza da zero è nel precorso, però poi di fatto nel corso io do molto poco per scontato, ok? Riparto quasi da zero e rispondo a qualunque tipo di domanda, anche le più basilari, d'accordo? Il corso vero e proprio è un weekend, è un weekend full immersion, fatto di due giorni, chiaramente era in aula, adesso è in streaming, per motivi che tutti sappiamo, e quindi è un weekend che potete frequentare comodamente da casa vostra, la data di cui vi sto parlando è quella del 23-24 gennaio 2021, ok? Per cui manca circa un mesetto per farvi le vostre pensate e capire se è una cosa che vi può interessare. Non si finisce con il corso, perché qualunque corso di training che si esaurisce nella sua parte più centrale, nel suo corso centrale, non porterà mai a nessun risultato, perché sappiamo tutti benissimo che poi quando torni a casa, anzi in questo caso ci siete già a casa, ma quando cominciate ad operare, inevitabilmente vengono fuori 7500 dubbi del tipo ma dove clicco? Ma cosa faccio? Ma questo aveva detto che era così, ma lo faccio cos'ha? Questo è un po' diverso da come l'aveva raccontato e quindi come posso reagire? Lo posso applicare anche a quest'altro sottostante? Vabbè, lo sapete, sicuramente se avete frequentato anche solo mezzo corso di training nella vostra vita. Sapete che purtroppo poi è così. Quindi noi abbiamo creato un post-corso, un follow-up al corso che chiamiamo Sala Trading, cioè una trading room che non è altro che un webinar, un online, quindi una stanza virtuale, dove ci ritroviamo ogni settimana. Adesso quella dell'Option Day è il martedì sera dalle 20 alle 20 e 30, infatti l'abbiamo fatta ieri sera, dove semplicemente ci si ritrova online e si applicano le strategie apprese al corso. Ok? Né più né meno. Cioè si fa trading tutti insieme. Io uso un conto reale, vero, dove faccio in reale i trade che abbiamo studiato, i trade relativi alle strategie che abbiamo studiato insieme e quindi commento fondamentalmente. Cioè dico, qui c'è questo segnale, entriamo in questo modo, applichiamo questo livello di mediazioni o questo stop loss e questo trade vecchio lo possiamo chiudere perché ormai è andato a target, quest'altro invece lo dobbiamo gestire in questo modo perché così è cos'ha, eccetera, eccetera, e faccio del mio meglio per gestire la situazione nel miglior modo possibile. Ogni settimana con registrazione caricata tendenzialmente subito dopo, nel senso la mattina dopo di solito trovate la registrazione, quindi se non potete seguire in diretta il martedì sera lo seguite tranquillamente inregistrato il giorno dopo. Questa è una parte, a mio parere, fondamentale perché ti permette veramente di andare ad applicare quello che hai imparato nel corso, diversamente sarebbe un po' difficile. Ok? A chi è rivolto il corso? Ok? Per chi è l'Option Day? L'Option Day in teoria è un corso base, come diceva la definizione iniziale, quindi in teoria sarebbe rivolto a chi ha poca o nessuna esperienza con le opzioni. Questa è la teoria. Nella realtà fidatevi se vi dico che anche persone con una certa esperienza nel mondo delle opzioni beneficerebbero assolutamente dalla frequenza dell'Option Day. Metà perché rivedere un argomento che già conosci con un filo logico molto strutturato e molto approfondito secondo me è sempre utile. Ok? Come abbiamo detto prima per qualunque altra abilità e skill nella vita. Secondo perché è un corso base nel senso che parte dall'inizio ma non vuol dire che non si arrivino ad affrontare anche argomenti abbastanza strutturati ed avanzati. Ok? Quindi io sono convinto che ne beneficerebbe anche chi conosce già le opzioni e che già opera. D'accordo? Poi, quali sono gli argomenti e cosa si intende per corso base sulle opzioni? Cosa andiamo a vedere? Che tipo di trading strategico si riesce ad ottenere con le opzioni? Beh, ovviamente andiamo a vedere cosa sono con le put che diventeranno le vostre nuove migliorissime amiche. Qual è la differenza fra il payoff del trading tradizionale e quello invece delle opzioni? Cosa vuol dire vendere e comprare le opzioni? Cosa vuol dire andare long di opzioni? Cosa vuol dire andare short di opzioni? Qual è l'anatomia tipica di un contratto opzionistico? Cosa vuol dire in the money at the money out of the money termini che sicuramente avrete già sentito ma li andiamo ad approfondire molto di più. Cosa sono valore estrinseco e valore intrinseco? Una delle cose in assoluto più importanti del trading con le opzioni. Quali sono le combinazioni più comuni che si trovano nel mondo delle opzioni che si utilizzano nel mondo delle opzioni come le famose l'avrete già sentito iron condor vertical spread calendar diagonal straddle strangle covered call e chi più ne ha più ne metta. Ok? Quindi questo è un po' il programma. Sì Stefano la registrazione viene mandata via mail assolutamente. Quali sono gli obiettivi formativi? Quindi diciamo dove potete aspettarvi di arrivare frequentando questo corso l'option date. I macro obiettivi a livello formativo sono fondamentalmente tre. Il primo è imparare le basi delle opzioni. Molto semplice quello che ho detto fino ad adesso. Cioè se adesso non sapete cosa sono dopo il corso saprete cosa sono come funzionano e vantaggi e svantaggi di qualunque di questi di questi approcci diciamo. Due saper usare bene la piattaforma Ava Options quella che si usa appunto per le opzioni sul forex e tre apprendere e mettere in pratica due strategie cioè due protocolli pensati per lavorare in sinergia tra di loro sia in acquisto di opzioni che in vendita di opzioni ok? Cioè diamo diamo uguale importanza ad entrambi ad entrambi i lati quindi se siete più fanatici di una delle due dei due aspetti sappiate che li affrontiamo entrambi. Per erogare tutti i contenuti formativi del corso usiamo un paio di piattaforme web piattaforme proprio pensate appositamente per l'e-learning cioè per l'apprendimento a distanza che si chiamano Teachable e Cartra e che sono molto efficaci le usiamo da anni e funzionano molto bene e il materiale didattico che vi viene messo a disposizione è veramente molto è tanto cioè della serie che chi di voi vuole fare un apprendimento un po' più asciutto cioè un po' più stringato diciamo allora basta che segua il corso faccia quello che viene chiesto e punto e stop e va bene così chi di voi invece come dire si appassiona la materia e vuole crogiolarsi nel materiale didattico e come dire guardarne a bizzeffe ancora 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 e vedere la cosa da mille punti di vista e approfondire mille aspetti sappia che c'è la possibilità perché chiaramente abbiamo un po' accumulato tutto il materiale didattico di questi anni in queste piattaforme l'abbiamo tutto salvato lì e quindi chi di voi frequenta adesso chiaramente c'ha molto più materiale accumulato rispetto a chi ha frequentato due anni fa evidentemente ok dove ci porta l'option day ci porta qui ad operare in maniera semplice e lineare con le opzioni in particolare con una certa categoria di opzioni che sono le opzioni vanilla cosiddette sul forex ok che sono una specifica categoria di opzioni ho scelto queste opzioni qua per il corso base proprio perché sono una fra tutte le tipologie le categorie di opzioni che esistono che sono tante queste sono le più adatte all'entry level ok sono le più adatte ai principianti per una serie di ragioni ve ne dico giusto qualcuna ma ce ne sono tante la prima è che la piattaforma è decisamente più user friendly più intuitiva di quelle più avanzate come interactive brokers di cui qualcuno di voi parlava prima perché richiedono poco margine quindi anche un'opzione venduta cosiddetta naked quindi senza una protezione teorica margina molto poco nell'ordine dei 50-60 dollari perché non c'è un minimo di versamento su questo broker e quindi potete iniziare anche con cifre molto piccole tipo 1000 o 2000 euro e perché sono opzioni cash settled che vuol dire che sono che non hanno il meccanismo di esercizio assegnazione quindi se vi scade in demane una di queste opzioni non succede fondamentalmente niente non vi vengono assegnati contratti future non vi vengono dati pacchetti di azioni eccetera eccetera cosa che aiuta ad evitare gli errori tipici dei principianti ok tipici che vengono fatti da chi inizia con le opzioni le opzioni esistono su tante cose sulle azioni sugli indici sugli etf sui future e sul forex ed è proprio su quest'ultima categoria che si concentra l'option day quindi andremo proprio a vedere le call e le put su euro dollaro sterlina dollaro dollaro yen euro dollaro canadese eccetera eccetera quindi parliamo del fantasmagorico mondo delle valute dei cross valutari che immagino abbiate sicuramente sentito piccola timeline di questo corso cioè l'option day non è un corso nato ieri è un corso che ormai ha una piccola storia e ve la racconto brevemente nasce a gennaio 2017 con la prima edizione all'hotel Cagranda di Milano quando vi ricordate quei bei tempi dove c'erano ancora i corsi in sala con 100 persone concentrate nella stessa sala ecco questa fu l'edizione del 2017 fu uno dei dei nostri eventi come vantaggio sleale opzione etica è stato uno dei eventi a maggiore partecipazione ci fu c'erano veramente 100 persone in sala all'hotel al nuovo hotel Cagranda di Milano e fu un gran bell'evento me lo ricordo ancora con una certa emozione e pensarci adesso a 100 persone nella stessa sala fa ancora più effetto poi ecco appunto lo dice la slide la prima originale circa 100 persone in sala e quel corso è tutto stato registrato da dei cameraman professionisti quindi una registrazione fatta bene ed è tutto caricato nell'area del precorso ok quindi è materiale è parte integrante del precorso dell'option day ok quindi ve lo potete spippolare tutto poi nell'edizione 2018 abbiamo introdotto diverse novità e nel 2019 è finalmente arrivata la ormai famosa piattaforma mobile Yava Options capirete poi perché è famosa perché è molto bella e molto user friendly quest'anno chiaramente edizione 2020 metà per scelta perché avevamo già deciso di fare una piccola transizione allo streaming e metà ovviamente per necessità è arrivata diciamo la versione online streaming dell'option day e quindi il fatto di poterlo allargare a persone che non abitano a Milano che non sono disposte a venire fino a Milano e oltre a questa novità è nato anche questo progetto FX Options di cui vi parlo dopo dopo vi spiego esattamente di cosa si tratta è stata una bomba perché fra l'edizione di marzo aprile e ottobre 2020 hanno partecipato veramente tante persone in queste tre edizioni online e adesso si replica con la prima edizione del 2021 questa è una breve spiegazione delle due strategie che andiamo ad affrontare all'option day una si chiama ping pong ed è una strategia di mean reversion cioè di ritorno alla media che detta in termini semplici è una filosofia di trading per cui io vado a fare un trading di tipo contrarian che significa se un sottostante è salito molto io vado a venderlo perché punto ad un ristorno verso la media ok e viceversa se è sceso molto vado a comprarlo perché punto ad un ristorno rientro sempre verso la media in quel caso al rialzo non è fatta a caso la cosa ovviamente è perché si tratta della tipologia di trading più efficace nel mondo del forex quindi non è adatta a tutti i mercati azionari indici commodities eccetera questa è specifica per il forex ok quindi la slide dice strategia di ritorno sulla media che sfrutta una combinazione di semplici indicatori grafici con un indicatore customizzato che ho costruito su excel e in particolare non l'excel classico ma l'excel di google che probabilmente conoscerete dopo ve lo faccio vedere e la seconda strategia invece si chiama contropiede che è una strategia di cosiddetto sequencing cioè è una strategia dove noi andiamo a mettere una serie di condizioni alla nostra operazione che praticamente si incastrano in un modo molto efficace diciamo ok cioè io gli dico se succede questo fai così e se però a un certo punto succede quest'altro fai cos'ha e a seconda di quello che fa il titolo io mi posiziono ribassista se sta scendendo o rialzista se sta salendo ecco questo è un riassunto molto molto riassuntivo della cosa la ping pong vi faccio vedere da cosa parte questa è uno screenshot di un pezzo di questo file excel di cui vi parlavo prima che non fa altro che rencare cioè mettere in classifica tutti i 28 cross di forex che esistono fra le 8 major del mondo del forex che sono euro dollaro sterlina franco svizzero yen giapponese dollaro australiano e dollaro neozelandese e dollaro canadese ci sono 28 cross di questi fra queste 8 monete e lui le renca per andare a vedere quali sono quelle che presentano delle opportunità di investimento migliori ok scarica i dati direttamente da google finance li elabora produce un indicatore che si chiama detrended spread che appunto misura diciamo una specie di tasso di min reversion per così dire e li mette in ordine per andare a vedere quali sono le occasioni più golose diciamo così di investimento short o di investimento long ok questo è l'indicatore di cui parlavo è il detrended spread adesso qui non è non sembra bellissimo visto così ma poi sul file xl è un po' più bello comunque è un indicatore appunto che mi dà una visione oggettiva di come si sta muovendo il prezzo relativamente al suo storico e quindi se il prezzo si trova in un punto del grafico dove c'è un'alta probabilità di min reversion questo è il concetto ok dove ci porta l'option day dopo vi faccio vedere il file xl adesso procedo con le slide così teniamo un filo logico il concetto è dove diciamo dopo l'option day tra virgolette qual è il punto d'arrivo cioè nel senso farmi tutto sto popò di sbattimento di studio nelle opzioni a parte essere molto interessante a livello intellettuale così ma dove mi può portare anche poi a livello concreto di risultati ecco vi può portare a in the money che è il nostro corso avanzato sulle opzioni è un corso anche questo storico perché è partito nel 2015 quindi siamo abbiamo fatto la sesta edizione e l'anno prossimo sarà la settima mi vengono i brividi a dirlo in the money è un corso avanzato molto strutturato molto lungo di cui poi vi parlerò in un'altra sede non è questo il momento però vi voglio già dare un po' di prospettiva ok è un corso non sulle opzioni sul forex ma sulle opzioni più toste quelle sulle azioni gli etf gli indici i future eccetera eccetera ecco vi do solo un diciamo un barlume di luce in fondo al tunnel parlandovi di quali sono stati i risultati della sala trading non dell'option day ma di etm di quest'anno cioè del 2020 l'abbiamo spezzata in due parti praticamente la prima parte è stata quella che è arrivata fino alla nuova edizione quella che si è tenuta a settembre 2020 quindi da inizio 2020 fino a la nuova all'estate 2020 diciamo così dove operavamo con un conto piccolo perché abbiamo detto partiamo con un conto da soli 5.000 euro di modo che sia adatto a tutti e ognuno poi possa farsi i moltiplicatori come vuole e vediamo come si tradano le opzioni su un conto piccolo su quel conto piccolo complice anche un po' il covid crash che abbiamo beccato alla grande con quel movimento ribassista così forte che c'è stato a marzo il conto piccolo l'abbiamo triplicato nel corso di quei pochi mesi ok abbiamo portato un conto da 5.000 euro a 16.000 e qualcosa euro ok quindi un risultato straordinario di cui però non voglio non il concetto non è fare il figo da fuffaguru del quanto assolutamente cioè io abborro quella roba lì fare questi risultati non è semplice non è semplice neanche farlo con il giusto risk management quindi il motivo per cui è un risultato molto buono e di cui sono contento non è tanto il risultato di puro ma è il fatto che l'abbiamo fatto con un veramente un attentissimo controllo del rischio ok il motivo per cui siamo riusciti ad ottenere questa grande leva è stato il fatto che abbiamo usato dei future protetti dalle opzioni che ci facevano in quel caso da assicurazione e ci abbiamo e chiaramente abbiamo beccato molto bene il movimento ribassista cioè quello è il concetto ok e quindi quando vi parlo di questi risultati ragazzi in specifico che sono risultati come dire pubblici cioè sono stati prodotti durante le sale training settimanali che faccio anche con i ragazzi di TM tra l'altro sempre il martedì sera appena dopo quella dell'option day quindi sono tutte operazioni aperte in video reale registrato e uploadato su youtube e fatto davanti a tutti i frequentatori del corso che sono una venticinquina trentina dipende dai momenti ok quindi sono risultati che posso dimostrabili questo è uno screenshot del conto IB e tutto quanto lo specifico per visto che si tratta di risultati importanti è giusto che lo dica ok questo è Interactive Brokers Mauro dopodiché a settembre si è tenuta la nuova edizione del corso di TM e a quel punto abbiamo fatto una scelta diversa abbiamo detto abbiamo già fatto il giro col conto piccolo tra virgolette ora saliamo un po' di livello facciamo usiamo per la sala trading il conto da 25.000 euro perché 25.000 euro perché c'è una regola che si chiama pattern day trade nel mondo americano che è una regola che impedisce di fare più di tre trade intraday nel corso nell'arco di cinque giorni lavorativi non vi voglio confondere troppo le idee adesso fatto sta che pensate semplicemente che 25.000 dollari è una soglia d'accordo quindi sotto a 25.000 dollari si fa un certo tipo di trading sopra a 25.000 dollari se ne può fare un altro chiaro ecco questa è un po' una una soglia quindi noi abbiamo aperto il conto da 25.000 euro così avevamo anche un po' di margine rispetto al fatto che la soglia fosse 25.000 dollari e lo stiamo tradando pubblicamente con tutti i ragazzi frequentato l'edizione 2020 ok ad oggi quindi mi tocco anche dove è giusto toccarsi quando si fanno sparate di questo tipo ma ad oggi il conto è dalle parti dei 40.000 dollari dei 40.000 euro ok è poco sotto i 40.000 euro mettendoci insieme operatività di itm operatività un pochino anche degli earnings che faccio io nella mentorship sugli earnings e qualche altra operazione tipo quella su penumbra che ho condiviso su facebook eccetera eccetera quindi con le operatività principali che facciamo noi siamo quasi a un 60% da settembre il mercato ci sta come dire il mercato sta facendo un buon movimento perché è chiaramente in un'ottima fase rialzista e noi la stiamo cavalcando bene va sottolineato che la cosa che a me piace di più da tecnico è il fatto che siamo riusciti ad ottenere buoni risultati sia in una fase fortemente ribassista come quella di marzo sia in una fase fortemente rialzista come quella di questo autunno quindi questo secondo me è veramente un buon valore raggiunto perché tanti altri trader che conosco sono molto bravi ma sono più bravi su una delle due fasi cioè o sono tendenzialmente sempre ribassisti e quindi sul rialzo spesso soffrono o viceversa noi cerchiamo di mantenerci più neutrali possibile Marco in qualche mese cioè siamo partiti da inizio 2020 gennaio anzi fine 2019 ancora dicembre dicembre fino al 2019 e l'abbiamo chiuso in estate sostanzialmente in primavera estate 2020 da quella parte lì era mi sembra maggio giugno da quella parte lì quando abbiamo un po' finito le sale training abbiamo aperto il nuovo capitolo ci tengo veramente ragazzi a non cioè voglio fare anti marketing cioè non è non vi dovete fare citare da questi risultati perché non è tipico non è facile non è sempre così cioè proprio no ok è proprio faccio il contrario di quello che fanno online io vi faccio vedere quello che stiamo facendo e sono contento di quello che stiamo facendo ovviamente ci sono tante persone che stanno frequentando la sala training che sono collegate in questo momento a cui possiamo anche dare la parola dopo per farci sentire qualche testimonianza dal vivo però non bisogna come dire farsi i viaggi i voli pindarici perché chiaramente esistono i momenti di drawdown esistono i momenti di non guadagno quindi né di guadagno né di perdita il training va affrontato in modo responsabile intelligente molto prudente molto prudente però quest'anno è andato particolarmente bene non abbiamo fatto tutti gli anni così quest'anno è andato particolarmente bene ok va bene chiuso la parentesi corso apro la parentesi e poi ho finito progetto effects options quello di cui vi ho detto prima dopo vi racconto che cos'è cos'è il progetto effects options detto in parole poverissime è una cosa che ci siamo inventati io e Mirko per farvi sostanzialmente frequentare l'option day pagandolo una stupidata pagandolo niente praticamente però noi guadagnandoci lo stesso perché non è giusto che voi abbiate il corso gratis perché noi lavoriamo gratis quello non è corretto noi vogliamo essere pagati per la formazione che eroghiamo perché siamo convinti che sia di qualità però dall'altra parte se possiamo dare la possibilità a voi di accedervi senza sborsare tanto di tasca vostra ci sembra una cosa intelligente ok quindi ci siamo inventati questo progetto che cosa vuol dire vado un po' rapido fammi vedere se questo no sì allora ve lo spiego brevemente senza stare a seguire troppo le slide il concetto è questo il broker ava options cioè ava trade che chiaramente è il broker madre padre della piattaforma ava options ha investito molto nel creare questa piattaforma e nello strutturarsi per permettere ai trader di tradare le opzioni sul forex per rientrare nell'investimento che ha fatto ovviamente di che cosa ha bisogno come qualunque azienda del mondo di clienti ok e di clienti in particolare che operino ovviamente perché un broker onesto come ava trade guadagna delle commissioni quindi guadagna tanto più voi tradate quindi ha bisogno di tanti clienti che facciano tante operazioni ma per tanto tempo non bruciandosi il conto immediatamente quindi fondamentalmente ha bisogno di buoni trader questo è il concetto per cui di trader formati che sappiano cosa stanno facendo e che facciano non tanti trade per il gusto di farle ma tanti trade perché tradano per molto tempo perché sopravvivono per molto tempo sapete tutti che la percentuale di sopravvivenza nel mondo del trading è molto bassa e quindi non non è facile per un broker avere un parco clienti efficiente ok quindi ad ava interessa avere le clienti formati a noi interessa fare il corso a voi interessa ricevere il corso e la formazione abbiamo semplicemente chiuso il triangolo per cui ava ci ha detto se i clienti aprono un conto su ava options depositano una certa cifra e questa certa cifra sono 2000 euro e appunto aprono un conto reale e depositano questa cifra noi vi paghiamo il loro corso i 500 euro che costerebbe questo weekend di option day più tutto il precorso più ta 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 ve li paghiamo noi questo è il concetto abbiamo semplicemente chiuso il triangolo facendo un win 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 molto semplice ok ci sembrava un'idea dove tutti ci andavamo a guadagnare e quindi abbiamo semplicemente messo in pista questa cosa per la precisione esistono comunque due percorsi cioè non siete obbligati ad aderire all'option day al progetto effects options potete decidere di pagare 500 euro che è il costo del corso punto e stop ok non siete obbligati a fare questa cosa non aprite il conto non versate 2000 euro o lo fate fatti vostri a quel punto e pagate la frequenza del corso se invece volete partecipare a questo a questo percorso allora c'è la possibilità appunto di fare questa specie di partnership che fondamentalmente porta al fatto che non pagate la formazione anzi metteteci un asterisco su questo non pagare fra poco vi spiego perché perché la pagava ok quindi come funziona il percorso indipendente percorso indipendente vuol dire che vi pagate l'option day 500 euro molto semplice andate sul sito pagate punto e stop la sala trading che c'è dopo il corso costa 39 euro al mese che sono quattro sale trading perché sono quattro martedì viene meno di 10 euro a sala chiaro molto semplice se invece optate per il percorso in partnership quindi partecipare a questo progetto FX options l'option day fino all'anno scorso vi sarebbe costato 0 euro 0 0 quota lo pagava tutto Ava d'accordo ma non è più così semplicemente perché ho detto a ottobre che sarebbe stata l'ultima edizione in cui Ava avrebbe finanziato interamente il corso e devo mantenere questa parola data da gennaio 2021 non lo pagate più zero lo pagate la strabiliante fantasmagorica iperbolica cifra di ben 150 euro perché Ava adesso chiaramente sta un pochino arretrando giustamente come è anche normale che sia e sta ci finanzia un po' meno rispetto al costo intero del corso molto semplice quindi c'è un obolo da mettere da parte del cliente di ben 150 euro la condizione è quella di aprire un conto e versare almeno 2.000 euro la sala trading vi viene a costare zero quello è rimasto uguale se tradate una quantità di contratti di opzione almeno di 20 pezzi al mese ok il che significa che per tradare 20 contratti al mese dovreste avere un conto un pochino più grande dei 2.000 euro ve lo dico per trasparenza 2.000 euro sono un po' pochi per tradare 20 contratti al mese ce ne vorrebbero almeno dai 3 ai 5 per tradare una ventina di contratti al mese d'accordo prima che mi facciate questa domanda bene se dopo aver pagato il corso quindi aver optato per la modalità indipendente decido di passare la modalità gratuita quindi entrare nel progetto FX Options posso farlo cioè se ci ripenso tra virgolette la risposta è sì ma entro 15 giorni dal corso non possiamo fare che dopo 3 mesi uno ci ripensa d'accordo se un mese non raggiungo i 20 contratti tra dati vi vengono addebitati 39 euro molto semplice ok funziona così se avete già un conto AVA semplicemente ne dovete lo stesso se avete già un conto AVA con MT4 non conta niente ne aprite uno nuovo sulle opzioni se avete già un conto sulle opzioni un conto AVA Options ne dovete comunque aprire uno nuovo è necessaria l'apertura di un nuovo conto al questo link che è forexoption.top ma poi troverete le istruzioni più dettagliate sul nostro sito dopo vi faccio vedere per chi ha già fatto i nostri corsi basta versare anche qui un obolo di 49 euro e basta tanto credo che ce ne siano pochi fra di voi che hanno già frequentato per procedere basta andare sul sito opzionetica.com andare alla pagina dell'Option Day e acquistare il corso se volete fare il percorso indipendente oppure candidarvi sul per l'Option Day qui la slide è sbagliata perché è quella vecchia di ottobre ma non importa il concetto è andando sul sito si ottengono tutte le informazioni corrette adesso vi faccio vedere home page di opzionetica opzionetica.com pagina dell'Option Day eccolo qua 23-24 gennaio 2021 o acquistate il corso per 499 o vi candidate per il progetto FX Options cliccate qui andate su questa pagina dove ci sono tutte le istruzioni scritte dettagliatamente dalla nostra mitica Chiara Babini ok la nostra collaboratrice molto efficiente e che quindi ha scritto tutto correttamente c'è dovete seguire i passi indicati qua ragazzi ok seguirli attentamente se no ci rendete la vita difficile Chiara mi impazzisce ok rispondo a due domande che vedo allora per ITM AVA non va bene Mario da quest'anno potrebbe andar bene perché hanno recentemente stanno diciamo così aggiungendo i prodotti degli indici questa è la piattaforma di AVA Options quella nuova che vi volevo appunto far vedere e come vedi hanno cominciato ad aggiungere i prodotti tipo CAC 40 DAX 30 Dow Jones Futsimib Nasdaq Nikkei S&P 500 che sono l'oggetto principale di di ITM quindi non sfrutti ITM a pieno facendolo con AVA Options perché non ci sono le azioni eccetera eccetera per cui è straconsigliato optare per i B ma una buona parte di ITM la riusciresti a fare anche con AVA Options da quest'anno è la prima volta Edi ciao non ti conosco e dici 41 minuti per parlare di corsi Edi probabilmente hai frainteso l'oggetto di questa serata perché questa serata era specificatamente una serata di presentazione del corso Option Day probabilmente pensavi fosse una serata formativa ma noi facciamo 6.000 appuntamenti formativi trovi una marea di materiale sul nostro canale YouTube sul nostro sito e su tutti gli altri nostri canali dove parliamo quasi sempre di questioni tecniche hai beccato l'unico appuntamento non tecnico dove l'unico obiettivo della serata era presentare l'Option Day quindi mi spiace ma era così forse hai frainteso la mail di comunicazione mi dispiace Armando ho frequentato il primo corso Option Day 2017 ho diritto allo sconto sì Armando tutti quelli che hanno già frequentato l'Option Day ne hanno diritto sì Ava fa da sostituto d'imposta no Mauro no acquistato il corso si avranno le registrazioni i giorni 23-24 e lo streaming per chi lavora ovviamente Marco certo l'ho dato per scontato assolutamente sì tutto registrato dalla Z certo absolutely ok le slide ho finite le domande alle domande credo di aver risposto tutte se me ne sono persa una ripostate la cortesemente così la vedo vi volevo far vedere solo due cosette semplici che sono un paio di fogli Excel che utilizziamo nel corso un paio di strumenti uno è questo qui di cui vi parlavo poco fa quello dove si vede la dashboard con la con la heatmap delle delle dei cross dei 28 cross di Forex che vi fanno vedere quali sono le occasioni più interessanti qui la schermata dove si prendono si scaricano i dati di di Google di Google Finance si crea lo storico e si producono gli indicatori come questo che vi facevo vedere prima come il detended spread questo è un calcolatore invece di money management quindi ci aiuta a capire quanto stiamo rischiando in ogni operazione qual è il massimo profitto il rapporto rischio rendimento con le relative istruzioni ok questo è il grafico del cross che stiamo analizzando eccetera eccetera le altre cose non ci interessano e questa invece è la dashboard della contropiede quindi Excel è uno strumento che io uso tanto nel trading e che in particolare per le opzioni sul forex è particolarmente importante e poi una delle cose di cui vado più fiero è il fatto che sono riuscito finalmente a produrre un file Excel come questo che vi disegna i payoff delle opzioni ok cioè voi mettete i dati di call put venduta comprata strike scadenza premio eccetera eccetera quantità e vi produce i payoff della vostra posizione questa per esempio è una posizione che abbiamo su euro yen proprio con i ragazzi della sala option day aperta un paio di settimane fa gestita ieri sera e l'abbiamo proprio commentata ieri sera insieme ed infatti è rimasta ancora qui sono rimasti ancora tutti i dati e voi avete accesso a questi file ok personalmente se posso dirvi la mia in totale onestà e trasparenza solo questi due file Excel valgono i 500 euro del corso ve lo dico proprio credo potete chiedere conferma sul nostro gruppo facebook potete contattare le persone che hanno frequentato il corso non ho nulla da da aggiungere o da nascondere ok però qui avete proprio la possibilità di vedere le gambe del singolo trade queste sono due call comprate due call vendute la call comprata il sottostante c'è veramente di tutto ok fammi vedere le altre domande Marco una volta aperto il conto con Ava per partecipare all'option day si ha un account con il quale si possono fare anche conti mt4 e pam Marco viaggiano su due binari paralleli completamente diversi il conto Ava options è una cosa il conto mt4 è un'altra se si apre il conto Ava options non ti si apre automaticamente anche il conto mt4 lo devi aprire separatamente ma aprire un conto mt4 con Ava trade è una procedura che prende tipo boh 13 secondi di lavoro è facilissimo ovviamente Anna Andrea quindi in questo corso ci insegna a piazzare operazioni solo su Ava sì la parte pratica applicativa di questo corso è solo su Ava Anna sì l'unico broker che uso a livello applicativo su questo corso è Ava è Ava options sì perché tradiamo solo con quello sì questo te lo invidio Davide e fatti stop option day Davide madonna santa cosa ti costa dai il prezzo è veramente simbolico e ce l'avrai se lo frequenti ce l'hai come ce l'hanno tutti ma dalla medesima area clienti intendo no Marco sono due aree clienti diverse e perché dite che è meglio IB è un'altra cosa completamente Anna IB è il broker numero uno al mondo con tutti i prodotti finanziari finanziari dell'universo dalle azioni alle obbligazioni ai future le opzioni gli etf le opzioni su tutti questi strumenti i fondi c'è tutto e ci sono tutti i prodotti regolamentati Ava Options ha solo le opzioni vanilla sul Forex e sta introducendo le opzioni vanilla sugli indici e basta non ha altro capito quindi c'è una grande differenza fra i due grandissima sono secondo me sono entrambi fantastici ma per cose diverse e chi ce lo insegna su IB è ITM Anna ITM affrontiamo bene tutto l'ambaradan delle opzioni su IB Marco mi spiego meglio apro conto Avatrade dalla stessa area clienti posso ottenere due conti uno MT4 e l'altro per le opzioni sì Andrea rispondo io sì ma cosa intende per area clienti te lo dico te lo dico io perché sono io quell'esperto dei conti Ava quando tu apri un conto ciao intanto ciao a tutti quando tu apri un conto Ava ti crea un user e password e con quella user e password tu puoi avere tanti altri conti ok quello che noi abbiamo bisogno per poter attivare questa promozione che venga creata una nuova area clienti dove all'interno avrai il corso di opzioni scusami il corso perdonami il conto di opzioni e se vorrai potrai aprire altri conti andranno tutti sotto quella zona lì bene vedi ottimo Paolo conferma che Ava non fa sostituto d'imposta no Mauro aspetta scusa scusami quando aprite un conto nuovo ok se lo aprite con in un nuovo tra virgolette account cliente non puoi spostare i soldi se è da un'altra parte quindi Mauro prova a chiedere se te lo fanno in deroga ma non è detto potresti dover riportare indietro e riportare di là in ogni caso abbiamo ho una abbiamo una nuova procedura rispetto alle altre volte che è molto più semplice ragazzi per evitare problematiche Andre posso spiegarla velocemente certo che è questa quando sul sito di opzionetica se vuoi farlo vedere dovrete aprire il conto nuovo una volta aperto il conto nuovo l'avete l'ha già scritto Chiara tutte le istruzioni giuste credo proprio di sì o perlomeno vedo che qua ci sono tutte le istruzioni perfetto vedete aprite il conto cliccando su quel link appena l'avete aperto mandate subito una mail a Davide Mantovani e avete così avete già subito la sua mail che è il nostro referente in AVA avete un servizio clienti un po' più dedicato rispetto a un cliente non vantaggio sleale gli mandate una mail lui vi chiama e se c'è qualche problema sul conto ve lo risolve immediatamente così non dovete più star lì a capire giusto aperto giusto sbagliato lui fa subito tutto mandatela a me con il vostro numero di conto il vostro numero di telefono e ovviamente le vostre misure volevo dire le vostre dove serve giustamente certo esatto e vi da tutto il supporto immediatamente in maniera tale che non dovete stare lì a perdere tempo così almeno se c'è qualche errore eventualmente lo riaprite immediatamente con lui con la sua guida ok yeah molto efficiente dai il conto dell'ava option dell'altra volta ovviamente avevamo dato l'opportunità mi sembra con un nuovo versamento o con un piccolo pagamento di poter ripartecipare gratuitamente al corso però se non aveva partecipato che proprio non aveva fatto il corso il chi è Fabrizio sì beh certo quel conto lì se è stato aperto con il anzi fai una cosa mandi una mail a Davide Mantovani col numero di conto e tutto e vedi se è possibile se va bene tutto così vedi tu vedi se è a posto ok yeah va bene per la dichiarazione dei redditi il regime dichiarativo poi è semplice no è una cosa complessa e difficile Mauro e per quello che non devi farla né tu né io ci sono dei professionisti che praticamente hanno dei software appositi come quelli per esempio con tante società dove tu praticamente gli chiedi quanto costa se non me lo ricordo io perché ne facciamo tanti e non siamo noi ovviamente ti possiamo mettere in contatto poi e cosa succede ti fanno loro l'estrazione di tutto che dirà il commercialista preciso da inserire ok il conto non lo puoi usare per far forex allora andrea apri un attimo il conto ava per favore ava option questo esatto questo è un conto dove potrai fare le opzioni e anche il forex puoi fare infatti guarda qua dove c'è scritto spot spot è un termine tecnico che indica il sottostante cioè che indica il cross di euro dollaro non le opzioni quindi puoi fare anche quello faccio buy io qui starei comprando euro dollaro mentre invece se faccio così entro nel mondo delle opzioni vedi call put straddle strangle eccetera eccetera allora ragazzi sì non è un problema cioè inteso voi potete fare non è l'AMT4 quindi se tu mi stai chiedendo posso fare il forex con il metatrader 4 no serve un conto diverso perché va proprio su conti diversi se invece devi usare il forex indipendentemente da quale piattaforma sia si puoi usare anche questo con l'unica differenza che il lotto minimo è 0-1 non 0-0-1 su questa piattaforma cioè è il 10.000 è il mini lotto e non il micro lotto esatto posso fare un nuovo versamento e ripartecipare al corso mi sembra di sì no? sì 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 assolutamente scrivi al servizio clienti di Vantaggio Sleale vi esorto da mandare mail a chiunque perché non rispondiamo più alle mail no scherzo però usate il nostro servizio clienti che è molto più veloce e più facile che è vantaggiosleale.it slash info guardate punto it slash info cioè adesso preferite eh ci vuole il www dobbiamo sistemare sta cosa e non so come si fa eh anch'io lo capiremo cioè scusate non volete se volete adesso Andre parliamoci voi ragazzi simpatici intelligenti dall'altra parte preferite mandare una mail anonima o scrivere a Chiara o Cristina eh vabbè ragazzi io specifico che ovviamente queste sono immagini prese da internet non crederete certo che le nostre due collaboratrici siano così le ho fatte io a Chiara e Cristina le immagini quindi le foto quindi a entrambe quindi ecco quindi vedete un po' voi eh e vedi che Mario Mario scrive chiaro avete capito il perché no? eh vedi bravo se ci sia qualche altra domanda eventualmente al servizio clienti la potete fare direttamente una sola cortesia visto che dobbiamo verificare semplicemente che Ava ci paga se voi avete versato i 2000 euro vi do solo una vi chiedo una cortesia non arrivate all'ultimo perché se arrivate all'ultimo non fanno tempo a verificare e voi al corso non ci partecipate benissimo prima di chiudere chiedo solo velocissimamente se c'è in linea qualcuno del non lo so non ho neanche guardato non lo so sinceramente qualcuno del corso ITM o dei vecchi option day che ha voglia di dire qualcosa ah Riccardo c'è Ricchi grande Ricchi aspetta che ti apro il microfono eccolo qua ciao Ricchi mi sentite? sì ciao a tutti ciao come stai? bene bene grazie voi bene bene grazie tutto a posto io direi solamente poche parole nel senso che come Andrea e Mirko sanno mi è capitato di frequentare anche altri formatori sedicenti perché poi non si sono rivelati tali quello che mi sentirei di dire tranquillamente è che sia Mirko che Andrea sono persone serie professionali in tre anni abbondanti non hanno mai una volta detto cose e non le hanno mantenute i corsi che fanno sono strutturati bene sono comprensibili sono frequentabili non vi lasciano mai soli anche questo non è poco perché quando si fa il corso è tutto chiaro quando poi si è di fronte allo schermo molte certezze si sbriciolano ma le sale trading e tutto il resto vi possono assistere se fate quello che vi dicono non commettete errori io le volte in cui ho agito da solo sentendomi il grande opzionista del momento raramente è andata bene soprattutto all'inizio in altre occasioni non è andata molto bene ma perché non avevo fatto quello che era stato detto durante il corso perché non avevo studiato correttamente gli appunti eccetera tutto il materiale è estremamente comprensibile è veramente chiaro non è difficile da applicare e oltretutto è sempre aggiornato quindi il corso ITM che io ho fatto qualche volta ogni volta propone alcune cose nuove interessanti ed utili e la mia sensazione è che col tempo si semplifichi e diventi sempre più alla portata di tutti l'unica raccomandazione che farei a chiunque voglia iniziare un percorso con vantaggio sleale è di ascoltare tutto nulla di quello che viene detto è superfluo nulla è casuale nulla è inutile e nei dettagli si nasconde spesso il segreto per avere successo avrete comunque assistenza avrete sempre comunque ascoltati dal mio punto di vista rispetto a ciò che si riceve si paga una sciocchezza in tutti i corsi che sia Mirko che Andrea fanno se volete limitarvi a replicare le operazioni che si fanno in sala trading recuperate istantaneamente il costo del conto del corso se volete fare qualcosa per vostro conto gli strumenti vi vengono dati tutti prima del corso durante il corso e chi ci riesce dopo il corso ma svincolarsi non è facile perché insomma il mondo delle opzioni è complesso è articolato Andrea e Mirko hanno un'esperienza solida navigata la sanno veramente lunga però è un mondo affascinantissimo sotto certi aspetti divertente un po' di più quando non si prendono botte sui denti ma vanno messa in conto per cui se volete iniziare io lo farei di corsa è qualcosa a cui non rinuncerei ma soprattutto terrei presente che è veramente abbordabile tutto fatto in modo che si possa realmente fare e si possa capire in altri casi io non capivo bene di cosa si parlasse con altri formatori intendo dire ma soprattutto quando fosse mai stata necessaria assistenza non era disponibile con vantaggiosi reali l'assistenza è reale reale e non manca mai e realmente al di là di quanto pagate di quanto fate sono sempre veramente presenti con generosità senza per quanto riguarda me senza chiedere mai un gran che in cambio e sforzandosi sempre di rendere la materia masticabile grazie tutto qua ammazza Mirko cosa io adesso mi alzo e me ne vado Andre ma gli avevi già fatto il bonifico Riccardo infatti non pensiate che sia una testimonianza sincera ovviamente è prezzolante è estremamente ma tutti quelli che hanno fatto il corso se hanno voglia di parlare ve lo possono dire tutti veramente è una formazione Riccardo ti ringrazio di cuore grazie a voi grazie a voi veramente insomma dopo tanti dopo tanti anni è un attimo non dico emozionante però insomma ma lo sapete quello che pensate non è quello che penso grazie mille veramente grazie a voi e non ero neanche preparata grazie Riccardo a voi a voi a voi di tutto no allora il corso FX Options cioè il corso Option Day non è un corso propedeutico a qualcos'altro è un corso base di opzioni sul Forex dove vengono insegnate alcune strategie e queste strategie sono lì per voi qualcuno poi capirà che quello è per lui sufficiente e allora può seguire la sala trading magari in qualche mese poi rimarrà a lavorare con le sue gambe oppure qualcun altro vuole approfondire che capisce è come quando vedi come si dice è come quando guadagni mille euro al mese che vai nei negozi di mille euro al mese però quando guadagni duemila scopri che c'è sempre qualcosa di più bello a duemila euro quando puoi avere cinque dieci venti trenta c'è sempre qualcosa di più bello e non vi nascondo che c'è sempre qualcosa di più bello anche con le opzioni quindi non è detto che qualcuno gli basti questo e qualcuno invece voglia continuare ma non è che se non continuate con altri corsi non imparate o se noi facciamo una sala ecco questo è importante da dire perché siccome la moda del momento e degli ultimi anni è quella di proporre un corso o gratuito o a bassissimo costo che in realtà non è altro che poi una 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 uno zuccherino che serve a venderti poi il corso costoso ci tengo a dire che nonostante la struttura sia di fatto così perché noi effettivamente dopo l'option day il livello successivo è in demane che è un corso più impegnativo più costoso più strutturato più duraturo eccetera eccetera ma non è così nella logica cioè l'option day è un corso completo a sé stante e che vi porta già all'obiettivo di poter operare e per bene lo dimostra il fatto che noi facciamo una sala trading solo per questo corso quindi vuol dire che ci sono tante persone che hanno deciso di non continuare ma noi gli diamo assistenza solo su questo che possono tranquillamente guadagnare anche solo con questo corso è ovvio che al corso base ma si chiama corso introduzione anche alle opzioni perché si insegnano delle strategie abbastanza semplici attenzione non è che non sono profittevoli sono più semplici e meno strutturate ma è normale ha un corso ITM dove dura un anno è ovvio e non dura due giorni è ovvio che possiamo permetterci di spiegare qualcosa di un pochino più strutturato ok yes poi c'è una domanda io ho fatto altri corsi con loro confermo grazie Anna niente non l'abbiamo no Riccardo non l'abbiamo pagato ma provvederemo a fare scherzo è durato un po' più del previsto ma direi che c'era un po' di cose ma quando ci si diverte il tempo vola Danila se vuoi dire qualcosa bene se no se sottoscrivi e basta quello di Riccardo va bene lo stesso va Danila avrà o la rete o il microfono che non funziona sicuramente sicuramente e comunque dai chiudiamo in allegria con una nota di allegria che è il fatto che domani sera abbiamo organizzato una cosa divertente perché noi facciamo questo mestiere sicuramente per business ma anche tanto per passione e ci piace aver creato una community di persone che si divertono mentre fanno trading e affrontano i mercati finanziari e quindi ci è venuta un'idea simpatica anzi in realtà è venuta Mirko bisogna dirlo di fare questo quiz tutti insieme quindi domani sera a 20 e 30 appena prima di una poltrona per due che vi ricordo essere l'appuntamento in assoluto più importante dell'anno per un trader che è alle 21 e 20 su Italia 1 alle 20 e 30 ci si collega tutti su zoom e alle 20 e 45 quindi un quarto d'ora di chiacchiere e spiegazione alle 20 e 45 parte il quizzone di Natale di Vantaggio Sleale che durerà 15 minuti sono 20 domande molto simpatiche di attualità finanza trading cultura generale e mondo Vantaggio Sleale per vedere se ci conoscete e chi vince i primi tre vincono dei premi molto carini oltre al premio più bello che chi vince tutto regaliamo il corso che faremo il 6 di gennaio di opzioni sulle cripto cripto sì esatto va bene ah se c'è qualcuno che fece i TM cripto all'epoca ragazzi vi ricordo che il corso glielo regaliamo noi esatto Danila dice posso dire che se ci fosse Andrea Mirko e lo Rosario avrei già smesso anni fa ecco anche questo mi fa piacere grazie Danila bene a posto ci salutiamo ci aggiorniamo andiamo a cena va bene buona serata a tutti ragazzi grazie dell'attenzione aspetta Andrea una presentazione sul corso delle opzioni no non c'è delle opzioni sulle criptomonete no perché è una monografia costa 50 euro abbiamo fatto abbiamo fatto un mini video io e te l'altro giorno dove in un minuto spiego cos'è ma si tratta di un corsettino microscopico di due ore di approfondimento sulle opzioni sulle cripto costa 49 euro quindi non non c'era neanche bisogno di grandi presentazioni è una cosa che dovete fare se siete o molto appassionati di criptovalute o molto appassionati di opzioni oppure di entrambe le cose oppure se vi incuriosiscono se vi piacciono entrambe le cose sia le opzioni che le criptovalute allora vi dico fatelo perché costa una stupidata ed è molto molto interessante se invece 5.000 ma è riduttivo dirlo così e poi non prendiamo chi non ha fatto i corsi base quindi e comunque c'è una presentazione completa di itm su youtube che spiega un po' meglio il tutto inutile buttarlo di così va bene ok perfetto grazie ragazzi buona serata a tutti un abbraccio e a presto ciao ragazzi ciao auguri buon Natale ciao ciao a domani sera quale buon Natale e vabbè chi non c'è di loro ci devono essere tutti a te ci sia a tutti ciao 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 Ciao